Salve ragazzi, allora oggi parliamo di un bel video, insomma di uno scontro che c'è in questi giorni anzi diciamo che lo scontro ha iniziato qualche anno fa e poi dopo, adesso ultimamente è proseguito parlo di Massimo Mazzucco e chiaro e semplice allora, io feci pure un video su Massimo Mazzucco dove ho cercato di contattarlo per avere un confronto ma lui doveva portare tutto quello, poi mi dovevo mettere in fila, in coda, ma scherito dovevo fare questo non ho tempo, quando mi porterai tutte e 42 le cose scritte forse potremmo fare qualcosa, tutte queste cavolate qua e io ho fatto un video di risposta, come ho detto, dove smentisco tutte le cavolate di questo suo documentario che ha fatto veramente un documentario ridicolo perché io ho sempre creduto che gli americani sono stati sulla luna, ma lo credo ciecamente perché io quel giorno, io avevo sei anni e me lo stavo guardando lo sbarco sulla luna, me lo ricordo bene, ma non è solo perché avevo sei anni, perché proprio tutte le cose portano che sono stati sulla luna, tutte, e io l'ho smontata tutte quante a Mazzucco nel frattempo io non vidi mai, non vidi mai, non ho mai visto i video di Chiaro e Semplice per... me l'hanno segnalato, come dissi, me lo segnalarono e io sono andato a vedere i suoi video dove lui smonta tutto il documentario che ha fatto Mazzucco, glielo smonta tutto quanto, glielo ha fatto a pezzi, distrutto sul fatto che Mazzucco dice che è una menzogna, cosa che Chiaro e Semplice scientificamente con Cartaganta gli ha dimostrato tutte le cose che è la realtà che sono stati sulla luna cioè ma con Cartaganta, scientificamente, proprio con le prove che lui ha portato questa American Moon è veramente una cosa squallida cioè quando io ho visto tutto quello che voi andate su Chiaro e Semplice sul suo canale vedrete tutte le risposte che gli ha fatto che Mazzucco voleva glielo ha riportate tutte quante e l'ha letteralmente disintegrato disintegrato perché proprio tutto quello che ha portato in American Moon Mazzucco è falso è falso ragazzi, è tutto falso è tutto manovrato, è tutto messo a... come si dice quando uno manipola la verità, manipola fa diventare falsa la verità questo, ha fatto questo Chiaro e Semplice gli ha fatto vedere, guarda e adesso si è aperto un confronto, nel senso Chiaro e Semplice ha chiesto un confronto lui ha detto, nell'ultimo video ho visto che lui vuole che deve mettere la faccia, deve far vedere chi è e Chiaro e Semplice ho visto il suo video e ha spiegato tutto quello che ha detto Mazzucco mentendo, sapendo di mentire perché Mazzucco mente, che è lui che scappa che lui non è vero nulla, perché Chiaro e Semplice vuole il confronto, lo vuole ha detto, dice, io voglio questo confronto voglio mettermi alla pari con te e far capire agli utenti lo sbarco sulla luna cosa che tu hai creato questa questa menzogna e io te l'ho smontata tutta quante, e lui Mazzucco non ci sta a paura perché sa, allora Mazzucco lo sa che sono stati sulla luna io non so per quale motivo lui ha fatto questo documentario forse come ho detto per avere più attenzione e tutto quanto però, visto che lui ultimamente mantiene la sua linea allora ha detto, ok allora Chiaro e Semplice ha detto facciamo questo, questo, questo e questo come devono a te? ci mettiamo d'accordo e facciamo questa puntata, questa diretta davanti a tutti e tu, non è che tutte 42 se tu gli porti 42 c'è da spiegarle bene tutte le cose può durare un video di 6-7 ore alla fine può durare una cosa del genere ma cerchiamo di portare almeno una decina di cose più salienti quelle proprio che veramente è e vedrai che io te le smonto tutto qualsiasi cosa che tu mi porti io te la smonto perciò ti dico che tu sei un falso chiaro e semplice a Mazzucco Mazzucco è un falso sto dicendo falsità non tutte 42 perché poi le cose basilari sono quelle che ho portato pure io sul mio video le cose basilari sono quelle che contano nel senso di spiegare veramente bene perché queste cose succedono sulla Luna e sulla Terra non possono succedere perché è tutto diverso tra la Terra e la Luna perché molti confondono che pensano che la Terra sia come la Luna sbagliatissimo comunque questo confronto per il momento Mazzucco sembra che vuole non vuole farlo non lo vuole fare si ritira si sta cagando sotto si sta cagando sotto perché se tu sei convinto veramente che non sono stati sulla Luna qual è il problema? ti presenti lo fai vedere dici guarda quello che io ti ho messo American Moon e lui ti dice ti smonta tutto quello che è poi dopo tu devi essere a far vedere che veramente dici la verità o no è qui che casca l'asino è lì che Mazzucco ha paura perché dopo lui non saprà dimostrare American Moon come è stato fatto quello che ha portato tutto quanto perché lui ha rigirato tutta la frittata ma nel verso giusto io infatti dissi nel mio video prima di conoscere gli arei semplici da vedere i suoi video ho detto voi rigirate il video il documentario di Mazzucco lo rigirate tutto quello che ha detto ho detto non è possibile che su 42 cose sono tutte false 42 non è possibile c'è un qualcosa anche che è vero qualcosa che potrebbe dire ma non posso pensare che sono 42 cose false sulla luna ecco perché a sto punto ho detto non posso non potrò mai credere anche se il video è stato fatto pure bene il documentario è abbastanza bene è spiegato bene per quelli che magari è normale chi pensa che magari non sono stati sulla luna e va bene loro pensano perché lui quello che lo spiega sembra veramente che non sono stati sulla luna quello che porta però il problema è che dopo quando chiaro e semplice ha rigirato e ha fatto vedere tutte le sue magagne perché sono tutte è pieno di magagne quel video documentario ecco ha detto allora accetti la sfida ma Zucco non la vuole accettare a quello che si è capito non la vuole accettare perciò si sta cagando sotto comunque questo è il quanto ce n'ho un'altra su su Amedeo Baldi adesso ha fatto un video visto un video da Amedeo Baldi ieri o l'altro ieri non mi ricordo l'ultimo video che ha fatto l'ha fatta fuori dal vaso questo giro questo giro veramente Amedeo Baldi l'ha fatta fuori dal vaso ne parlerò pure di Amedeo Baldi su questo video che ha fatto veramente che ormai cioè non sanno più dove arrampicasse questi soggetti ok ciao raga